Siamo in compagnia del Podestà di Asti, nonché sindaco di Asti, Maurizio Rasero. Sono felicissima di questa pace, lei? Molto, diciamo che oggi è stato bello e simpatico l'incontro fra i due Podestà, quello che avviene tutti i giorni è un confronto fra le due amministrazioni, fra tutto il territorio, quindi tutte le istituzioni che operano sui nostri territori. Stiamo facendo molte sinergie, stiamo vedendo come potremo fare delle cose insieme in futuro, perché sono convinto, siamo tutti convinti che da queste sinergie, da queste collaborazioni, possono essercene dei ritorni importanti, ripeto, per un territorio che è unico al mondo, c'è stato riconosciuto come patrimonio dell'umanità. Intanto oggi abbiamo visto una sinergia tra i musici e gli sbandieratori, sono stati bravissimi, la pensa così anche lei, no? Vero, forse il momento che ha toccato di più è proprio il momento in cui tutti i due gruppi, quello degli sbandieratori di Alba e dell'asta di Asti hanno giocato con le bandiere insieme. Allora, le do un consiglio, dato che qui si parla di un cavallo albese di Nuova d'Asti, e se ci fosse una trifulera di Asti ad Alba è una roba che non si può dire? Diciamo, è stata avanzata una richiesta, la valuteremo con molta attenzione, il giudizio personale del sindaco che è un'opportunità. Vedremo per la bella trifulera di Asti, questo può essere un ricatto? Sì, potrebbe essere, dai, mettiamola così. Comunque sono convinto che veramente in tutto, comprese anche le nostre feste e manifestazioni, faremo cose importanti insieme. Grazie a tutti.